Gli Stati Uniti accusano l'esercito cinese di cyber-spionaggio industriale. È la prima accusa di questo tipo contro cinque dipendenti di uno stato straniero. Gli uomini avrebbero lavorato per una divisione dell'esercito conosciuta come Unit 61398 a Shanghai e rubato i progetti di una centrale nucleare e informazioni su costi e prezzi di pannelli solari per avvantaggiare società cinesi rispetto a concorrenti statunitensi. Il procuratore generale è stato chiarissimo. Aver sottratto segreti industriali tanto importanti è cosa assai grave e richiede una risposta assai ferma. Dobbiamo dire che c'è un limite a tutto e che non tollereremo sabotaggi di compagnie americane atti a mettere in difficoltà l'integrità del nostro sistema economico e il libero mercato. Tra le vittime di questo caso di cyber-spionaggio, grandi compagnie tra cui Alcoa, colosso industriale, con una sede anche in Sardegna, Portovesme e la Westinghouse.